Ok? Ok. 5 Destra 7 con sinistra 7 E destra 8, diventa 30, 4 meno su, dopo 15, dentro tornante E destra 7 due volte Per sinistra 5 più E destra 5 più diventa C4, diventa tornante Con sinistra 2 più Per destra 7, 50 Stai a destra Sinistra 6 più diventa 5, vai Per no, destra 5 meno diventa 4 meno 20, tornante sinistro Per sinistra 7, 50 Destra 6 più 30, tornante destro Sinistra 7, apro 80 Destra 4, 10, tornante sinistro 40, dopo 20, tornante destro All'albero si sinistra 5 più Per destra 7, 150 Destra 5 vai corta Diventa 6 più Ok Eh, le bombe ormai che... No, ho sbagliato una culo perché lì ho visto le rotate di perico, pensavo ci fosse l'olio Quanto si è fatto? Ah, no, io ho il nostro Chiedigli un po' Ci ridici qual è il miglior tempo? Eh, bravo, grazie Mi dici? Allora, scrivi 42, il numero 19, 42, 8 Poi 41, 43, 43 noi Ah, ok Quanto? Chi è? Ah, il numero 1, ok Grazie Ciao Quanto? Eh, 1,41, 3 E lui 1,40 Eh, vale, 1,40 Sì, ho rallentato anche lì Sì No, ora la macchina è migliorata dietro Meglio con indurità Anche noi abbiamo migliorato sicuro 35 Eh, abbiamo migliorato a 2 secondi, 3 Dietro è più ferma Lo bisognerà vedere nel... Grazie 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 Grazie